Arrivano a 247, 50 più di ieri le persone che in Umbria alla mezzanotte del 17 marzo risultano positive al virus Covid-19. 9 sono di fuori regione, sale poi a 4 il numero dei morti, mentre i guerriti al momento restano 4. E' il quadro che emerge dai dati diffusi dalla regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 164 e 74 in quella di Terni. Sono ricoverati in 75, 3 di fuori regione, dei quali 53 nell'ospedale di Perugia e 19 in quello di Terni. Dei 75 ricoverati, 21 sono in terapia intensiva, 11 nell'ospedale di Perugia e 10 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 2.210, 1.549 nella provincia di Perugia e 661 in quella di Terni. Nel complesso, entro le ore 24 del 17 marzo, sono stati seguiti 1.615 i tamponi. Sempre alla stessa data, la regione ha reso nodo che risultano 648 soggetti usciti dall'isolamento, 492 nella provincia di Perugia e 156 in quella di Terni.